Si è dovuto ricredere chi pensava che questa mattina sarebbe stata l'emorragia di Big del Partito, il tema principale della conferenza stampa convocata dal coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martuscello, per presentare ufficialmente i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. L'incontro infatti segue di pochi giorni quello organizzato dai quattro senatori uscenti esclusi dalle liste che si erano scagliati proprio contro il coordinatore Martuscello e la sua strategia usata per la definizione delle candidature e soprattutto dopo le dichiarazioni al vetriolo di Mara Garfagna, donna simbolo di Forza Italia fino a poche settimane fa, oggi candidata nel terzo polo, nato dall'alleanza tra azione e Italia Viva che ha definito estremista chi è rimasto nel partito. Ma guardi oggi parliamo di cose concrete, da questo momento in poi la campagna elettorale si svolgerà sulle cose che vogliamo fare per la città e per il paese, per cui non parliamo più dei destini personali, parliamo del destino del paese. La Garfagna dice che si è diventato un partito di estremisti, lei non guarda, io alla Garfagna non rispondo, la Garfagna risponde alla sua coscienza. Sulla fase di Forza Italia, le dichiarazioni del ministro per il Sud, Garfagna è intervenuto anche il consigliera regionale della campagna Stefano Caldoro, candidato al Senato. Se mi vedi non sembro proprio un estremista, Forza Italia è centrale come sempre è stata, Forza Italia è Berlusconi, molto legata alla leadership straordinaria di una campagna elettorale che sta facendo con grande generosità. Siamo il Partito Popolare Europeo, basta rispondere così. Chi è uscito dalla Forza Italia ha fatto un grave errore, chi ha vissuto con grandi responsabilità, condividendo tutto, si sta nel PPE, non è che si è usciti dal PPE, c'è una ragione? Si è fatto un atto di rottura? No, Forza Italia è sempre Forza Italia. Qual è l'atto politico che fa cambiare idea a qualcuno? Forse ci sono dei percorsi personali, non c'è nulla di politico.